La regina Giuliana D'Olanda Il piatto è stato particolarmente apprezzato dalla regina alla quale facendo un'eccezione alla regola il cuoco ha rivelato i segreti della ricetta La giornata si è conclusa con una gara di tiro con l'arco sport nazionale dello Zeland Le prime frecce sono state lanciate dalla regina che ha dimostrato una notevole robustezza ma una scarsa precisione Tuttavia gli applausi non sono mancati Grazie